La TV nel web. Innanzitutto buongiorno, una giornata alla fiera, da dove arrivate? Da Cagliari. Siete da Cagliari, siete qui per vedere qualcosa in particolare, tecnologie? Sì, qualcosa che può essere interessante, ma per lo più per fare una passeggia. Quindi per trascorrere una giornata diversa dalle solite routine. Vi ringrazio, buon proseguimento. Grazie a loro. Grazie a te a trasmettere le immagini.